ciao da che manzarine in questo nuovo video vi parlerò del restauro gli eventuali buchi presenti sui vostri tappeti annodati a mano in questo specifico restauro il nostro esperto si sta occupando di uno splendido esemplare di mir la prima fase è l'inserimento di una nuova trama in cotone con ago come secondo step avviene l'inserimento dell'ordito qui c'è una dimostrazione del nostro esperto come terza fase avviene la pulizia della zona da trattare con forbice come ultima fase ammiriamo la manualità e la tecnica del nostro esperto nella vera e propria nuova annodatura a mano e anche per oggi è tutto grazie per avermi seguito ci vediamo al prossimo video